Siamo sempre qui nella nostra serata finale del Festival di Sanremo, adesso abbiamo veramente un momento toccante, io oggi ho visto le prove, mi sono commossa, mi sono venuti brividi, questa è un'altra grande esclusiva per la serata finale di questo 60esimo Festival di Sanremo, perché tra le tante leggende che sono salite sul palco dell'Ariston in queste serate, non potevamo dimenticare la più grande di tutte. Un tributo al re indiscusso della musica mondiale, questa sera con noi abbiamo per la prima volta in Italia il coreografo ufficiale, i ballerini che stavano preparando l'ultimo spettacolo di Michael Jackson. Grazie a tutti! 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 una grande visione per il futuro, un profeta, un fratello e un amico di molti, a lui interessava il benessere del pianeta, di tutta l'umanità e il suo lavoro, era proprio quello di ispirare tutti, renderli felici e ricordare a tutti che vivono su questo pianeta che dobbiamo proteggerci reciprocamente e vivere bene. Travis, tu sei stato tra gli ultimi a vederlo ancora vivo, ecco, cosa ricordi di quel giorno? Bene, ricordo proprio l'ultimo giorno quando eravamo insieme noi tre con Michael, avevamo appena completato This Is It, avevamo fatto tutte le routine dello show e avremmo dovuto poi aprire a Londra all'Arena O2 e lui era felicissimo perché davvero si era dato tantissimo da fare perché questo era un lavoro importantissimo per lui e naturalmente ci manca tantissimo, però la sua musica, i suoi messaggi e la sua anima starà in tutti noi per sempre. Ne sono convinta, voglio chiedere soltanto se è possibile, un piccolo regalo personale ma che facciamo anche al pubblico qui a casa, il famoso moonwalker. è possibile vedere un... Oh, certo, certo. Certo che sì, tutti noi, dai. Mi metto qui, non do fastidio. Grazie, Travis, Daniel, Nicholas, grazie per essere stati con noi e per averci fatto vivere, grazie, 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 grazie per averci fatto rivivere la leggenda del grande Michael Jackson. Wow, che emozione, vero? L'orchestra che ama, la musica ama, lui era un straordinario, era straordinario in tutto quello che faceva, era un talento straordinario. Grazie. Grazie.